Andiamo, fratelli! L'attacco continuerà quando avremo preso un posto di comando dei droghi! Scassione dei nemici in corso! Scassato alle mie spalle! Conto alla rovesca partito! Scassione dei nemici in corso! 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 Il generale Grievous è qui! Fase d'assalto iniziale terminata! Le ferraglie si ritirano! Noi siamo cloni! Noi facciamo benvenuti! Scassione dei nemici in corso! Gli scanner hanno rivelato nuove posizioni delle ferraglie. Dobbiamo attaccarle, fratelli. Attenzione, le ferraglie da polso! I vincili d'arrivo! I vincili d'arrivo, i soldati nemici! Tiro una granata! Tiro una granata! Tiro una granata! Cambio arma. Adesso ci divertiamo. Non l'obiettivo. Non avete sentito. Pensiamo all'obiettivo. Punto i nemici. L'obiettivo prima di tutto. Seconda fase d'attacco riuscita. Presto avremo nuovi obiettivi. Nuovi ordini, ragazzi. Queste posizioni vanno attaccate subito. Io vado avanti! Seguitevi! Io vado avanti! Seguitevi! Non lo so! Via! Granata! Scansione dei nemici in corso! Non ci faremo! Non ci faremo. Non ci faremo. Non ci faremo. Ho preso! Non ci faremo! Non ci farmi, non ci farmi. Oltre non andrete. Generale idiota, dicono. Senza fredda facile dubbio. Grazie a tutti. Oh, simpolo. Questa è l'ultima volta che concedo una licenza a Kodi. Per niente bene. Blaster? Buon gusto. Di casa, eh? Guardatevi. Non c'è emozione. C'è pace. Dietro di me, veloci e cattivi. Sì, tu e chiunque altro. Non c'è pace. Non c'è pace. Non c'è pace. Il nostro attacco ha sparagliato le difese separatiste, di cui rimangono solo rottami. Ottimo la volta.